Buongiorno amiche belle, questa mattina chiacchierò al buio? No, è che siamo un po' contro luce e lo schermo del pc fa ombra ma vi volevo raccontare brevemente, sarò breve, ho fatto un po' di racconto su instagram, quindi di là, se andate di là ora vi dico come mi chiamo, che non ho mai come ricordo, narrazioni, trattino basso, testi, avete un po' da leggere ecco, potete così anche connettervi e andare a scuriosare tra i post e le pubblicazioni della pagina Il Borghetto vedete questo agrume in primo piano, anche c'è un insettino che corre lui è un melangolo, è un melangolo che tra l'altro profuma così tanto e intensamente nella sua buccia di pompelmo è uno dei frutti che ho portato a casa dalla visita al giardino di questa struttura sopraelevata è qualcosa di incredibile, guardate avevamo sbirciato i due accessi più di una volta trovandoli chiusi e chiamavano, chiamavano allora, gli accessi si trovano su due vie una è via Vittoria Emanuele e l'altra la nostra via dello shopping a Procida è di Procida che vi sto parlando e l'altra è via Principe Umberto guardate, a Procida bisogna aprire portoni non per niente, c'è stato anche un evento che si è intitolato Portoni Aperti perché dietro a un portone ci si aspetta, non so, un ingresso, un atrio, poi subito delle scale e invece no, 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 no si scoprono orti sopraelevati, giardini, altri ingressi, altre scale, altre porte guardate, è incredibile, è proprio da scuriosare con calma c'è molto da guardare a testa in su per Procida cercando di non spattascial per terra insomma, questo giardino odoroso è un giardino odoroso ma guardate, è incredibile insomma, è proprio da vedere e il proprietario, se lo incontrate perché il proprietario vive a Ischia ci è stato detto che si presenta spesso nella struttura ma vive a Ischia e della struttura in Procida si occupa il signor Gennaro Jenny, per gli amici e i confidenti due persone meravigliose tra l'altro ci è stato presentato questo signor Jenny come il braccio destro questo vuol dire grande stima guardate che questo signore è importante quanto me guardate persone così accoglienti sotto una pioggia a un certo punto proprio battente quando c'è uno scatto che adesso condividerò anche qua sotto all'ombrello che non voleva neanche stare cioè il signore Antonio stava sotto la pioggia proprio così senza proprio ansia e fretta era così contento di mostrarci in quel momento di tranquillità perché eravamo proprio quasi quasi all'ora di pranzo quasi insomma sono state le 11 forse quindi colazioni già fatte la mattinata così incerta e balorda ovviamente insomma il più delle colazioni è stato ci spiegavo consegnato nelle stanze ma in quel giardino nel giardino odoroso del borghetto che è un giardino grande uno non si aspetta tra quel fitto fitto di tetti e muri uno spazio verde così ampio un giardino odoroso perché? perché ci sono collezioni in ordine sparso guardate non è niente di lezioso di artefatto il signor Antonio ha detto come natura consigliato noi abbiamo seguito quindi trovate collezioni di agrumi vari dalle foglie così profumate tra l'altro una delle prelibatezze del posto a Procida è proprio il foglio lì è un infuso alcuni anche di scorze ma di aromi naturali foglie foglie ma così profumate io non le avevo mai sentite limoni i limoni pane di Procida che meravigliosa scoperta anche quella io amo gli agrumi ho sempre bisogno di avere a casa limoni a parte che ne consumo in abbondanza ma perché la presenza dell'agrume mi fa compagnia quanto un mazzo di fiori una piantina un bel libro posato sul tavolo che io uso anche proprio come soprammobile ogni tanto appoggio un libro diverso sul tavolone qua della Paolina ma lo facevo anche in altre case quindi io amo gli agrumi e siamo entrate non proprio di soppiatto quasi non c'era nessun cartello che proibisse l'accesso o che invitasse a richiamare i proprietari o custodi quindi abbiamo trovato su Via Vittoria Emanuele l'accesso aperto un cancelletto qualche scalino una seggiolina poco più in là e poi quello spazio meraviglioso un silenzio la pioggerellina e noi siamo andate tanto le abbiamo già bagnate siamo entrate abbiamo iniziato a toccare proprio le foglie invitavano quasi più le foglie che i frutti i limoni erano ancora abbastanza carichi di frutti c'erano ancora dei fiori qua e là macchie di erbe odorose poi ci hanno fatto annusare strofinando le foglie le nostre dita strofinate su foglie di menta io amo la menta insomma abbiamo iniziato a perlustrare lo spazio dove qua e là si vedevano dei salottini molto semplici ora fatte di pallet ora qualche seggiolina poltroncina tavolini di varia natura salottini sparsi e quello ci incuriosiva non capivamo se era una una fattoria didattica una sorta di giardino didattico fattoria detto grosso non c'erano animali un orto didattico c'era uno spazio orto anche da una parte un giovane orto appena appena preparato anzi poi quando abbiamo incontrato i signori Antonio e il Jenny ecco ci è stato spiegato che stavano proprio preparando anche l'orto che erano avevano da mettere a dimora i pomodori ed altro insomma io avevo già iniziato a raccogliere frutti da per terra dagli alberi erano per terra una volta che hanno toccato il pavimento il suolo poi marciscono quindi è uno spreco allora avevo no avevo preso solo un melangolo questo che è ancora bello sodo guardate è ancora in ottima salute uno lo sto già consumando e ho fatto delle preparazioni di scorze di limone di melangolo tra lo zucchero scorze sotto zucchero devo andare a controllare ce l'ho nel frigo e poi mi frullo lo zucchero e lo uso per i miei dolcetti e come faccio il souvenir faccio così faccio i miei dolcetti profumati con lo zucchero degli agrumi di procida insomma a un certo punto sentiamo delle voci come andiamo andiamo via andiamo via ma figurati non c'è mica nessun divieto ci presentiamo facciamo i complimenti perché era bello vedere quel giardino così alto e intorno le costruzioni e poi tutto discreto insomma non ci si sentiva gli occhi addosso dalle costruzioni intorno insomma sentiamo un vociare vediamo da una parte sbucare da una nicchia due signori che stavano spostando cose ci vedono e ci sorridono è già una buona cosa insomma si avvicinano ci danno il benvenuto ci chiedono se ci piaceva se ci stava piacendo il posto ci hanno chiesto cosa fate qua se ci stava piacendo il posto e io sono partita in quarta che ve lo dico a fare le mie ragazze erano un po' intimidite ah io no e allora ho detto di sì che quell'ingresso ci richiamava da quando eravamo arrivate sull'isola solo che non l'avevamo trovato aperto e avevamo osato entrare e ci è stato detto che avevamo fatto bene anzi cosa ne pensate come vi sembra hanno usato venite venite ma raccogliete prendete mi guardavo alle mie mani ho questo popò di melangolo in mano il melangolo è l'arancia amara che si può utilizzare nelle marmellate la marmellata di arancia amare è fatta col melangolo di solito sono gli alberetti che vengono utilizzati come decorativi lungo le vie cittadine la mia città era ricca di melangoli tra corsocavur e corsocavur tutta piazza brin e via chiodo un profumo la zagara quando profuma la meraviglia insomma è una festa la pianta di arance insomma mi ha detto signora ma prenda prenda tanto ormai qua è finita la stagione degli agrumi noi quello che dovevamo produrre l'abbiamo fatto il resto l'abbiamo lasciato così per bellizza il problema è che noi eravamo a piedi nel senso che dovevamo arrivarci a Napoli con le nostre valigie minù era veramente complicato erano già pesantissime mi dispiaceva poi qualcosa ho raccolto comunque ma prendete quello che volete e ci hanno invitata ad avvicinarci a uno spazio quasi protetto con una specie di tettoia e il signor Jenny oltrepassato questa questa nicchia diciamo ha preparato su una mensola dei bicchieri delle ciotole e ci hanno fatto assaggiare la marmellata preparata da loro per gli ospiti della struttura la struttura conta diverse stanze e degli appartamenti e ci hanno detto che appunto ogni ospite ha un proprio spazio dove intrattenersi per la colazione o durante la giornata perché appunto procida è uno di quei luoghi che non invita solo alla vacanza marinara estiva anzi anzi a me sinceramente attrae proprio mi invita a curiosare i mesi freddi i mesi di buio c'è un giardino e si è felice tra quelle case poi ecco non è un paese solo vacanziero c'è tanta umanità c'è tanta presenza umana nell'isola abbiamo visto in quella giornata in quelle giornate di tempo balordo che ci sono toccate abbiamo visto anche il sole però è stata tosta tra la pioggerella lo scroscetto un po' così e il vento che ti portava via ma ce la siano goduta proprio come se ci fosse stato un soleone anzi molto meglio io temo molto di più il caldo che le sventagliate ero abbastanza coperta e tutto quello che avevo a un certo punto sotto al trencio mi ce lo sono messo è stato bellissimo ho assaggiato una marmellata io amo la marmellata di agrumi è una delle mie preferite forse è la più la più amata perché mi ricorda casa perché veniva fatta anche dalla mia bisnonna la mia bisnonna faceva la marmellata di arance e le scorze preparava le scorze candite quindi per me è tutto un ricordo di famiglia e ci hanno fatto assaggiare delle creme liquorose non era limoncello avevano anche il limoncello e il foglio lì che poi il foglio lì è il nome di un diciamo di un prodotto ma ecco come limoncello no? ecco fatto con le foglie il foglio lì è un marchio non so come spiegare è un nome proprio di un prodotto quindi come dire vespa o lambretta ecco avete capito c'è un po' di differenza ma sono due case diverse nomi nomi propri e ci hanno fatto assaggiare questo infuso liquoroso di foglie il limoncello loro questa crema liquorosa questa marmellata sotto la pioggia cioè sotto la pioggia si sono intrattenute con noi che eravamo già ospiti di un'altra struttura ma ci hanno dedicato del tempo con tanta gioia quando esageri cos'è essere così romantica no no proprio la gioia quello che che mi ha fatto specie che di notte alla mattina alle 4 vado rompo le scatole pescatori che scendono dalle barche dopo una notta taccia amaraccio pioggia e trovo persone sorridenti gioiose e salvatore pescatore che mi ha dato metà di quello che si stava portando a casa me lo ha regalato non me lo ha venduto a peso d'oro che io ero lì disponibile a comprare del pesce fresco che non lo compro mai il pesce fresco vado direttamente col pesce surgelato guardate perché sono più tranquilla e invece me l'ha voluto proprio fare dono ma ti roderanno le scatole che sei sceso che è nata così che avete pescato poco siete bagnati che quando si pesca ci si bagna sempre invece no una persona gioiosa che mi ha dato e vi basta non mi dava pure del buro ma sì grazie siamo solo in tre e allora prende parte si gira ma io quanto le devo ma niente ma no va buono ma buono oh mamma mia con una faccia gioiosa ve le ricordate ancora voi le facce gioiose stanche seppur stanche le persone ecco era proprio gioiosa sono rimasta così io in pigiama che non sembrava un pigiama le mie ciabattine tic 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 alle 4 del mattino 4 e 20 ecco e il signore Antonio col con il genni che non si sentiva preso di mezzo ne ho anche due palle ci mancavano ste tre sotto quest'acqua no no proprio